Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie L'ha come cosa? Il cambio di ragione Ma cosa? Si vede dalla televisione C'è legge di portoli Ma non a me valerio valerio non è alice de bortoli non è che le gaia bianchi bro valla a prendere no però c'è mi fa sincero hai mica aperto il foglio però più al sud è che al nord però c'è un'iccaperto ma giù parlano proprio tu sei del nord mi piace tutta la bocca io lo lascio aperto dove vai al mare di solito tu in su kilimarex non lo deve sapere non lo deve sapere non lo deve sapere voglio andare a dal ghe ma sai questa è la canzone del milan bro ora ti giri non lo deve sapere ma io ti giri ma io ti voglio andare a fare i pancii ma io ti voglio andare a fare i pancii ma io ti voglio andare a fare i pancii Non mi spingi! Non mi spingi! Non mi spingi! Ma intervengo io. Ma intervengo io. Non mi spingi! Non mi spingi! Non mi spingi! Ragazzi, per favore fuori! 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 Vai! Vieni fra! Vieni qua! Vieni qua! Io chiedo su! Scusa! Cosa ti pensi del mio lavoro mamma? Beh... Sei benissimo inizialmente... Puoi raccontare il primo giorno cosa è successo? Tu, dalle tue parole? Beh, non ero felicissima, il primo giorno ho iniziato questa tua avventura, era una sera tardi, io ero a letto, tu eri nella tua cameretta, mi sono alzata, sono entrata senza bussare e te ne ho dette... Questa stanzetta è da bambola per prima. Ok... scusa! Scorre col tizio! Ohhhh, è la Glovo tranquilli... Mamma mia quanta... Quanta scena! Dov'è accendere tutte? Perché... Ci ha chiuso la porta lì vuol dire che ci aspetta in sala non è qualcuno No 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 ci aspetta lui guarda Guarda chi c'è Uomo uomo brutto brutto Venito Lo vedi? La gente non lo vede La vedete? C'altro lo vedete? Metti il flash Accendi la candela Se si può Ma chi è questo? Dai vai Dai su Non qua non qua Non è il doppio passo? Doppio passo a tiro E gol Gol Il mambo così stava eh Fa finta di lui ma il mambo è Sempre lì L'ultima vuole entrare? L'ultima è nuda Ok andava c'è l'entrata di una costella Che è stata la vicitrice non so dire eh Perché mambo vuole vedere un altro? Eh no 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 ma dico ormai ha vinto lei basta Eh no basta sbatti infatti i nostri Basta ci sbatti Beh è fanculo E l'altra non può poverina No facciamo una cosa divertente Certo Bomba Tipo Chi è? Bingo il bingo Vuole il bingo la chat ogni volta E adesso vuole il bingo Che cazzo sei diventato? La stream per i vecchi Chat? Chat cosa vorreste vedere? Voi giocare con la Youtuber League bomba o bingo? La stream per gli anziani? Youtuber League bomba o lingo? Youtuber bingo League o bomba? Youtuber bingo Link bomba? Bro fammi di cambiare Non la vincita Youtuber bomba League o bomba? Punto Hai rotto il cazzo È duro che sei letteralmente qui a rompere i coglioni in chat Ti fai la tua cazzo di live Non restremmi la mia Ti fai il tuo content Non mi rompi i coglioni gentilmente È duro che leggo Rick Bory in live Non me ne frega un cazzo Punto Bannate quella cazzo di parola di merda In qualsiasi modo possa essere possibile Utilizzarlo in chat Adesso mi leggiamo per i cinque mesi Come fare? Porco di azz Bella Vamos Dicevamo Praticamente Ma pensa di che lei vede in un letto Cosa ha fatto? Var di cosa? No no lascia stare Perché var? La chat lo sta dicendo eh? No var un cazzo Var un cazzo Non ballare Oddio Porca puttana Da un 10 a un 3 Aiuto No 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 Madonna Però mi fa paura? Sto esagerando E' una mia scopo amica Dai la sua amica Ma che scema che siamo lì Non ci andavamo accorti No perché abbiamo firmato nella testa Quasi diciamo Ah ma è proprio Ah capì Ah chiaro Che ci siamo conosciuti così Che ci siamo conosciuti così Parla a me Ciao sorella Oh tua sorella con la troia Partire da ping pong Alexi Uno Partire da ping pong music Ah stronzo E 2-0 Eeeh Ciao Eeeh Lui è un pregazzone Eh Cazzo come il cazzo Come il cazzo vuole qua L'ho fatto pure qua Ah ah E' scarso Ma che si ce l'è? Ma lasciala fare Ma che si può fare? Boh Cioè se avessi fatto così invece Fanno Dai 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 Istigano un po' Istigano un po' Fanno ballare Dai Fanno un po' Cittare il fondo Jenny Si stai provando? Oh No Comunque bene Tappati le orecchie Tappati le orecchie un attimo Io? Si Jenny Avete scopato È vergine È vergine È vergine? È vergine Non l'avete scopato? Non l'avete scopato No No niente cose nostre Eh Spero che Senterà noi Eh Gli ho chiesto se avessi scopato Ovviamente no Ah Mi ha detto convincilo Ho capito C'era piccolino io Ha detto c'era il piccolino Smetti Ma scusami attimo Allora Tutti qua Ma dov'è andato? Stati qui ragazzi Allora Questo funziona giusto? Ok Ragazzi È arrivato il momento Inizierà il FUB Come ha scelto la chat FUB Mettiti di qui Noi Noi tutti qua in piedi Qua dietro Certo Non siete all'appuntamento? Scusa Non è che ho spiegato Grazie per l'opportunità Non l'ho spiegata Facciamo tutti quei pinguini Ma che pinguini? Ogni volta che succede qualcosa di interessante Sudando Entra Entra Non entro Non entro Ti corro in culo Io ti corro in culo Dio cane Noi Deviamo vincere la sta paura noi Abbiamo parola di un cazzo Simone Io mi nascondo qua sotto Simone Non abbiamo parola di un cazzo Ho fatto bene a nascondermi Ho fatto bene a nascondermi Io ho fatto Mario Sturmiano Che c'è da sciarra con Il numero ti manca? Io non manco Cinque No L'ultimo Due Sìììììììì' Il mio telefono Ma quel è il mio? No non è il tuo Qual è il mio? Qual è il mio numero di telefono? Ufo scrivere il tuo numero Sìììììììììììììììììììììgo Bene Bene. Te lo giro su Whatsapp, vedrai qui. Vai, vai, ci stiamo, ci stiamo. E cosa fai nella vita? Oltre a lavorare, che non ho capito che lavoro fai in realtà. In comunicazione. Eh sì, ma che cazzo si chiama? Che lavoro fai? Cosa ti?